buongiorno a tutti grazie di essere venuti a questa classe e ieri parlavo con un mio amico che mi ha fatto ridere perché mi ha detto mi piacerebbe tanto digiunare perché so che il digiuno mi farebbe molto bene la salute ma mi viene una gran fame e questo mi ha fatto ridere perché mi ha fatto pensare in realtà a come noi per fare cose che ci fanno stare bene cerchiamo sempre le condizioni ottimali per cui mediterò quando sarò in vacanza e poi davanti al tramonto sulla spiaggia farò anche yoga in realtà mi ricordo che la mia maestra diceva sempre un piccolo dolce sforzo non deve essere uno sforzo molto grande non dobbiamo pensare di dover cambiare radicalmente le nostre abitudini cambiare radicalmente la nostra vita dobbiamo semplicemente fare un piccolo sforzo per venire incontro a quelle che invece sono le nostre esigenze più profonde la nostra chiamata quello che il cuore ci chiede no e la lezione di oggi è dedicata proprio a questo dolce sforzo quindi impareremo a dosare le nostre forze e al tempo stesso utilizzeremo abbastanza energia per poter sostenere le posizioni in equilibrio sulle braccia e impareremo ad ammorbidire il cuore quindi l'attenzione sarà quella di avere abbastanza forza per poter affrontare quello che dobbiamo affrontare ma farlo con un cuore morbido e lo faremo appunto con le posizioni equilibrio sulle braccia con le torsioni pronti pronti ok uniamo le mani di fronte al cuore cantiamo il mantra om una volta il mantra di invocazione una volta e chiudiamo con l'om una volta prendete contatto con il vostro corpo prima di tutto se non l'avete ancora fatto chiudete gli occhi e rendetevi conto di avere la possibilità di dedicare questo tempo a voi alla vostra pratica in questo momento preciso quindi dentro di voi dite sì a questo momento permettete a questo mondo di tutte le possibilità di creare qualcosa per voi e voi metterete questo piccolo sforzo affinché